Ciao Ferre, ciao! Ho scoperto una nuova cosa fantastica che abbiamo dentro a casa, la vuoi vedere? Ma cosa? Cioè io ho visitato tutto e non mi sembra che ci siano cose nuove No Ferre, c'è un passaggio segreto! Guarda eh, guarda qua Ok Hai visto? Lo conoscevi? Sì, vabbè, ma non è niente di strano, sono i generatori che mettono in funzione le porte e tutto quanto No Ferre, ma c'è una porta segreta lì dentro Ma non è vero! Sì, guarda Ferre Sono tutti i generatori Steph Steph, non ci sono pulsanti qui dentro, fammi uscire Vedo le tue manine che escono fuori, Ferre Guarda, vedi Questa è una crudelta, è incredibile, fammi uscire Dai, non ci sono tasti, come faccio a uscire? Puoi farlo solo da fuori, dai Ah, Steph, non ti sopporto, non ti sopporto proprio Vedete, Consolini, oltre al toast perfetto esiste la Coca-Cola perfetta Che è fatta con il limone dentro Quindi adesso voglio vedere tutti i Consolini Se non l'avete mai provata la dovete provare Se invece l'avete già provata, foto su Instagram taggandoci Perché voglio vedere tutti i Consolini che bevano la Coca-Cola con il limone Io odio! E noi mentre ignoriamo Ferre, ovviamente E questa cosa c'entra con me che sono chiusa qui dentro Cioè fai le cose, mi chiudi in un posto Dobbiamo lasciarti lì dentro Mi lasci fuori dalla Coca-Cola perfetta e fai le cose ai Consolini senza di me Esatto Fammi uscire subito Addio! 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 E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki E io sono Stefano Che sei che come Scrapi Mechanic? E siamo tornati qui su Scrapi O Consolini Devo dire che siete davvero fantastici Avete adorato lo scorso episodio Ci avete riempito di like Di commenti Ci avete dato un sacco di idee Bellissime E quindi siamo qui prontissimi A fare un episodio ancora più fantastico Allora Io me la butto in questo modo Abbiamo un sacco di commenti vostri con idee fantastiche per migliorare la casa dei Consolini Abbiamo aggiunto alcune mod super mega epiche Abbiamo chiuso Ferre Niki dentro il rifugio segreto È un episodio meraviglioso Cioè non c'è altro da dire Fere Sì Ciao me la leggo il dico E finché non morirò io ce l'avrò con te Te lo dico Allora Partiamo da una cosa che ha fatto tantissimi likes Che ci hanno chiesto tantissimi Consolini La mia preferita Il commento è sparito Quindi io non posso mettermi sui commenti Perché è scomparso quel commento Non so perché Per fortuna me li ero già letti Quindi un po' me li ricordo Una cosa bellissima Una Ferrari Fere E infatti ti stavo dicendo È la mia idea preferita Cioè perché Cioè vogliono proprio la Ferrari Messa lì nel garage Che buca fuori dalla casa Perché io mi sono immaginata l'idea Che noi abbiamo chiesto le cose ai Consolini E mi immaginavo cose più classiche E loro se ne escono Una Ferrari Cioè si vede proprio che sono No mancano le mod per questa cosa Stai rovinando il momento più bello Dell'episodio Nessuno mi aveva avvisato Cioè di solito c'è l'avviso Non c'era E io ho scaricato la mano Eccola Oh che bello Vado No ma è davvero fantastica Vado Questa Ferrari Oh mio Dio Ma è gigante poi Più grande della casa Oh mio Dio Aspetta Aspetta La dobbiamo provare Allora Mi sembra logico Che la dobbiamo subito provare Com'è si sale Uno sportello Dovresti trovare il tasto vai Dopo un po' Aspetta Ci mette un pochino eh Anche me ci ha messo un po' Ah si sta già muovendo credo Sì 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 Aspetta Aspetta che vengo a vedere No Consolini Questa è pure Una Ferrari super lusso È una Ferrari super lusso No Ferre sali con me Brum brum Oh oh Eccola Eccola Quanto è bella È fantastica La dobbiamo parcheggiare bene Comunque sono un po' invidiosa La vorrei anche io Una bella Ferrari Però l'idea è venuta ai consolini Quindi solo a casa loro Esatto Mi sembra giusto Sono d'accordo anch'io Ci ho pensato anch'io Mettermela Però no L'idea è loro Quindi rimane per loro L'abbiamo dovuta parcheggiare fuori Perché non ci sta Ho esagerato Ho preso una Ferrari troppo grande Che era più grande del garage Però va bene dai Magari poi nel garage Metteremo altro Esatto Allora 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 Avevo appunto una sorpresa per te Vieni qua Dove? Qui dove sono io Perché nella Ferrari Cosa devi mettere? Allora aspetta Perché non è per nulla semplice No così sembrano i fari della macchina E spero sono il logo della Ferrari Ma dove te li sei tirato fuori Bellissimi Abbiamo un sacco di loghi E un sacco di cose fighissime Belli 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 Ci stanno anche bene messi così Ci stanno bene Io l'avrei voluto tipo centrale Come il logo della Ferrari Però secondo me sono bellini così A mo' di decorazione Ok Così i consolini avete anche il logo Ferrari E nessuno vi potrà più dire Che non è una Ferrari Esatto Perché ma che cosa Ma è soltanto un rosso Non è Ferrari Boom È una Ferrari È una Ferrari Seconda cosa che i consolini ci hanno chiesto Cioè in realtà sono infinitamente infinite C'è anche Eh lo so certo Mi sono piaciute moltissimo Casa sull'albero Che prima o poi proviamo a fare Sì Sì è una buona idea Però non me la sento oggi Te lo dico Non sono pronto psicologicamente Ma no che miglioriamo Cerchiamo di fare anche qualche costruzione bella Dopodiché piscina Che ho il dubbio se si può fare Sì si può fare In quelle Davvero Si può fare Sì 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 Ci pensi tu Allora perché io Allora Cioè mi sono messa a costruire un po' per i fatti miei Per cercare di imparare E ho visto un blocco che ha qua Quello ti volevo dire Ok Facciamo così Fai una piscinetta Ok E io nemmeno vado a fare una cosa dentro casa Che è una sorpresa Ok Mi sembra giusto di dire Nel mentre costruisco questa cosa E poi la vedrai dopo Ok Allora Dove potrei farlo Forse qua Perché tanto questo mobiletto è abbastanza brutto Secondo me non piace troppo a nessuno Quindi noi ci mettiamo qua E smontiamo tutto Vai piano piano Il gioco crasha ogni due minuti E Steph è tanto tanto triste Mi dispiace Steph Iniziamo la sorpresa per i consolini Ehm Non so quale sia il verso dritto Credo questo Sì dai Ci sta Ci sta Poi mettiamo Questo Questo Lo vorrei mettere qui così Bellissimo Poi dobbiamo mettere Ma è troppo grande Questo Che stai combinando Vabbè Ci sono delle proporzioni un po' strane In questa cosa Proporzioni Proporzioni Perché non riesci a dire proporzioni Perché è difficile Che problemi hai con proporzioni Due problemi Ehm 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 Vuoi venire a vedere Sì arrivo Io non posso fare la piscina Perché ho appena scoperto che se costruisci tu io non posso costruire Perché? Perché mi scatta tantissimo E non mi fa mettere i blocchi Ma io ho finito Eh lo so ma non me lo faceva fare Quindi adesso fammi vedere quello che hai fatto Poi la faccio insieme Vieni 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 Allora vai dentro Vediamo se te ne accorgi da sola Ehm Che hai fatto Questo? Sì Il computer? Sì Ma è al contrario il monitor? Davvero? E mi sembra dalla forma Ma in effetti hai ragione Quella è la parte di qui Era un po' strano Devo essere sincero Oh no ho tolto la tastiera Dai era l'unica cosa messa bene C'è Chrome C'è Blender addirittura Possiamo fare qua tutte le cose Così possiamo fare le miniature Animazioni e copertine Le miniature per i video bellissimi Allora 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 Quindi questo è fatto Ed è un'aggiunta che secondo me Piacerà a tutti tantissimo E mi devi aiutare un attimino Con la piscina Perché c'è un problemino La casa non è proprio di dritta Lo so Quindi se io faccio un rettangolo Mi esce super stocco Ok E oltretutto Sì Se lo facciamo qua Vedi che ci sono i cespugli alti E rischi che hai l'erba Mentre vai in acqua Facciamola alta Eh mi devi aiutare Come la facciamo? Fai una forma Dai proviamo a farla insieme Eh ho paura di aprire l'inventario Ferre Ci provo? Nel caso crasho eh Come crashi? Eh sì Vado? Ciao vai Sembra che ci sono Ok Ci sono Allora ho preso il blocco bianco E quindi Steph Ti deve dare una mano A fare la forma Eh sì Perché te lo Una E poi? Basta sfruttare l'arte architettonica Mmm Ce lo dici tu Sì Ferre Devi sentirlo Devi sentire l'acqua Che galleggia Capisci? No che ti sta facendo affogare In questo momento Così Perfetto E poi un ultimo pezzo Che invece fa così Un po' più grande Però possibilmente Quindi così Bellissima È stortissima E avete pure le piante Mentre vi fa No no Perché No aspetta Basta alzare Ci sta secondo me Basta alzare Ferre Così non abbiamo più le piante Fanno quelle piscine Che ricordano naturalmente Le alghe marine Guarda che lo vogliono No 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 È troppo brutto No 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 Non scherziamo Facciamole scomparire Ste piante Basta fare così E scompaiono tutte A parte il cespuglio Ecco Ferre stai facendo le scalette? Sì Altrimenti come c'entriamo Sto pensando a come farlo Allora faccio io le scalette E tu fai l'acqua Facciamo teoricamente Una cosa così Perché poi Io vado A prendere qua Ok Oh che bello Che c'è a fare? È un blocco Blocco Cioè? Cioè non ti puoi fare il bagno Ok? Ah È una piscina estetica E vabbè Però è bello lo stesso È bello come blocco A me piace A me piace Ha un bel effetto Ha un bel effetto Secondo me ci sta Ok Ok Vai Pranzi a mettere tutta l'acqua Che bellino È bellina È bellina Ci sta quasi bene anche l'alga Però devi riempire molto di più Ovviamente Secondo me facciamo solo quella zona Più piena Mentre l'altra un po' più bassa Sai che le piscine hanno le zone più profonde La parte più alta La parte più bassa Ci sta Allora mentre tu continui Io vado a continuare a decorare dentro casa Così ti faccio un sacco di sorprese Ottimo Ok Keep calm and play in the scrap mechanic Sembra giusto Sì È vero È vero Così Ci sta Allora abbiamo blocchi decorativi È vero che volevo provare una cosa Che c'è uno scritto nei commenti Vai vai Tu prova quello che vuoi Io ti farò laggare tantissimo È troppo grande però Lag in arrivo Lo faccio lo stesso Consolini Oddio Ehi Fere Dietro di te Dove? Dove? Mi vedi Fere? È un fidget spinner Oh mio Dio Perché? Fere Aspetta no voglio salire Ti prego fammi salire Voglio stare in uno dei cosi che gira E vedere cosa si prova a girare Guarda Posso anche volare Stai prendendo il volo Sì Ma io volevo vedere cosa si prova a stare su un fidget spinner che si gira Allora aspetta che scendo Aspetta Devo trovare il modo di fermarmi Eh sì Ok Sali Ci hanno chiesto troppo nei commenti che gli ho detto Lo dobbiamo fare Che poi lo riaccendo No mi butta giù Ti dicevo siamo persone terribili Ancora non ne abbiamo comprato uno Però dovremmo Dovremmo Ma questa è un'astronave Non è un fidget spinner Ma scherzi Oh mio dio Addio Ok Ti prego Fermalo in qualche modo Bellissimo Una delle cose più fighe che abbiamo mai provato Assolutamente E dovrebbe avere sia diverse velocità Sia la possibilità di girare da una parte e dall'altra Oltre che appunto di volare e di muoversi dove vuoi Devi provare tutto Davvero fantastico Provare tutto Stef Sì Ho decorato un po' la piscina Ah sì Sì non mi piaceva così un po' spoglia Allora Fammi vedere un po' Allora questa è la zona relax Facciamo finta che siano cuscini Che vanno bene da mettere in acqua Sai quelli proprio gommosi Capito che tu ci appoggi mentre sei in acqua E quindi qua ti ci puoi rilassare un po' con le alghe Carini E poi qua ho messo il pallone per giocare È un po' grande a dire la verità Ma dai Però è bellino Da un po' di colore A me piace Però aspetta Fere Teoricamente possiamo mettere anche Guarda Eh sì Sì Perché sei sdraiato e ti bevi la coca cola Certo ci sta Una lì e una qua Bellissimo Sì mi piace Allora quindi Consolini In questo episodio per voi abbiamo fatto La super piscina Super carina Che devo dire che abbiamo salvato Alla grande Secondo me Allora io all'inizio Come ho visto Modestamente Che si poteva fare solo storta Rispetto alla casa Mi è venuto il panico E invece secondo me Non è male Quindi Piscina La Ferrari Che non abbiamo fatto noi Ma che comunque abbiamo cercato De bella E abbiamo aggiunto il logo Così nessuno può dire che Non è una vera Ferrari Non è una Ferrari esatto Infine la postazione Dentro casa Vieni a vedertela pure tu Fere Sì che io non l'ho vista L'ho migliorata parecchio Eh sì 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 Vedi c'è la latina C'è il logo Nelle computer L'adesivo Che bellino E poi qua c'è il poster Keep calm and play in the scrap mechanic Mi sembra giusto Sì Mi sembra giusto Che dici Secondo me abbiamo fatto un bel lavoro In effetti non abbiamo toccato le nostre case Però quella dei consolini era più importante Quindi Sì dai Mi sembra giusto Hanno dato tante belle idee Quindi almeno in questo episodio Ci stava migliorare la loro Esattamente Quindi dai Io direi che ci possiamo fermare così Per questo video Mi raccomando Nei commenti Continuate a scriverci tutto quello Che vorreste vedere Anche cose complicate Perché tanto Anche se adesso Magari non le facciamo In futuro Le facciamo più che volentieri Quindi proponeteci tutto Quello che volete Di aggiungere cose Magari all'arredamento Della seconda Cioè del piano di sopra E magari un piano sottoterra Anche se non so se si può fare Ma forse sì Non lo so Tutto quello che vi viene in mente Noi decideremo le cose migliori E le faremo E nel prossimo episodio Iniziamo a farci la nostra casa Dopodiché Devo dire una cosa Sì Cioè se tu ti guardi intorno Vedi la mia casa La tua casa E quella dei consolini Che è già fighissima Cioè ci rimani malissimo Perché la loro è troppo bella È vero Però sono felice Ferrari più piscina Ci è diventata una villa da ricchi Ci sono diventati Capito Noi abbiamo iniziato il villaggetto povero E loro hanno già il villone Super bello È vero È vero È vero Quindi ci rimaniamo così Tanti like Tanti commenti Per supportare la serie X sondagino come sempre E ci vediamo domani Bene che se vi riesci così Siamo già sentiti un like E se la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao